La solidarietà ha sempre un posto di primo piano e se vogliamo far fronte al problema dell'invecchiamento della popolazione mantenendo quegli elevati standard di vita che contraddistinguono il Giappone, dobbiamo, come già detto, pensare a una ristrutturazione della nostra società. È stato detto che il governo si contrappone o addirittura vieta l'immigrazione ma ci sono dovute eccezioni e le eccezioni possono essere rappresentate da persone estremamente benestanti che portano ricchezza oppure da persone estremamente qualificate. Il problema non sono queste qualifiche ma è invece consentire l'immigrazione di persone non qualificate. Se ci sono degli uomini da fare estremamente talentuosi sono i benvenuti in Giappone.